La morte di Tina Turner ha causato un enorme lutto nel mondo della musica, colpendo direttamente al cuore i suoi numerosi fan sparsi in tutto il globo. Molti di lei si stanno chiedendo come abbia trascorso gli ultimi giorni della sua vita lontano dai riflettori. I residenti della pittoresca comunità Kusnack, situata sulle rive del lago di Turigo in Svizzera, hanno generosamente condiviso preziosi dettagli sullo stile vita della famosa regina del rock and roll. Tina Turner, il dolore nell'ultimo post, i miei reni avevano bisogno di cure. Mi sono rifiutato di affrontare la realtà. Morta Tina Turner, l'abuso del marito sul suicidio del figlio quando cantavo sentivo il sangue in vola. Dallo stop alla rinascita negli anni 80 Tina Turner, il dettaglio notato dai vicini negli ultimi giorni prima della morte cosa ha fatto la Rockstar TXWGWXWQ8WX, leggo 26 maggio 2023 Tina Turner, il dettaglio notato dai vicini nella cittadina a Svizzera la cantante si era ritirata a vita privata, lontana dalle scene illuminate e dai palchi che l'avevano vista protagonista per tutta la vita. Crediti fotografici Kickapress, musica di Corben MKDD l'ultima Tina Turner prima di morire non sembrava così malata.